Una vera e propria festa al pluricomprensivo San Rocco di Marano, nell'istituto alla periferia della città. Si è tenuto la festa di fine anno con esibizioni artistiche e lettura dei temi che avevano come traccia, come immaginate il vostro quartiere. Abbiamo una scuola formidabile perché nessuno si è risparmiato nel lavorare, nel produrre opere artistiche, hanno realizzato prodotti in ceramica, hanno fatto mercatini. Abbiamo avuto la collaborazione di tutti gli insegnanti e poi degli sponsor esterni, quindi imprenditori del territorio che non si sono assolutamente tirati indietro. L'iniziativa ha visto la collaborazione degli imprenditori della zona tra cui Pina Palumbo, di Cantine Fedeliciane e Giuseppe Trinchillo. Periferia della periferia, quindi una scuola purtroppo trascurata e degradata. Ci sono alcuni lavori da fare, c'è questo muro alle spalle che è stato ripristinato da noi, io e qualche altro imprenditore. Abbiamo anche basato sul riciclo, quindi ci sono dei pneumatici con delle piantine, però il lavoro è appena iniziato, quindi in futuro ci saranno altri pezzi di auto trasformati in strutture, in strutture diciamo riciclate. Dare un'immagine di una scuola degradata agli adolescenti non è un buon segno. Mi hanno sorpreso, io sapevo che c'erano delle risorse in questi bambini grosse e da tirar fuori, lo sentivo e l'avevo capito, ma nei loro temi hanno espresso una sensibilità e una fantasia anche nel crearsi una San Rocco ideale che è andato oltre la mia immaginazione. Sì, questa cosa mi ha commosso.